Tumore da telefono cellulare, l'ennesima sentenza Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno Ribelle Sconfessata, ancora una volta, la scienza negazionista del danno cioè quella conflitta da interessi e vicina all'industria telefonica da cui attinge anche il governo italiano Tumore intracranico causato dall'uso di telefono cellulare Schwanoma vestibolare, ovvero un tumore dell'ottavo nervo cranico conseguenze? Sordità sinistra, impianto cocleare a destra paresi del nervo facciale, disturbo dell'equilibrio sindrome depressiva e danno biologico permanente del 57% è scritto nell'ultimo verdetto shock l'ennesima sentenza in favore di un danneggiato da elettrosmog emessa pochi giorni fa dalla Corte d'Appello di Torino che confermando in secondo grado la decisione del Tribunale di Aosta ha dato ragione a Michele Nania pensionato di 63 anni a cui l'Inail pagherà vita natural durante la malattia professionale per aver usato in servizio per 13 anni per una media di 3 ore al giorno il telefono cellulare per un totale stimato tra le 12.000 e le 14.000 ore complessive di wireless sulla testa tra il 1995 e il 2008 è una sentenza figlia del serrato confronto scientifico il ruolo dei giuristi è stato marginale affermano gli avvocati della vittima l'ennesima di una lunga e triste sequela imbarazzante per governanti e lobby la nostra attività wireless mettendo le mani avanti dichiara Verizon colosso americano del 5G deve affrontare anche azioni legali per lesioni personali e omicidio colposo relativa a presunti effetti sulla salute di telefoni wireless o trasmettitori di radiofrequenze infatti i presunti precedenti hanno già tracciato la linea futura sentite qua 2021 la corte d'appello di Firenze condanna l'INAIL al risarcimento per la malattia professionale a tre ex dipendenti ENEL della provincia di Lucca uno però già morto nel primo riconoscimento giurisprudenziale per malattie ematiche causate dall'esposizione a onde elettromagnetiche 2020 la corte d'appello di Torino conferma integralmente la sentenza del tribunale di Ivrea del 2017 in favore di Roberto Romeo dipendente Telecom è vero che il neurinoma dell'acustico è stato causato da uso lavorativo del cellulare perché esiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo criteri probabilistici più probabile che non il caso più noto unico al mondo arriva però dalla corte suprema di Cassazione Roma 2012 oltre ogni ragionevole dubbio sentenza in favore dell'ex manager bresciano innocente Marcolini sentivo un gran calore stando al telefonino non avrei mai pensato che quel fastidio mi avrebbe rovinato la vita tumore al cervello sordità da un orecchio parziale paralisi del viso morfina sedante oppioidi e analgesico ogni 6 ore un rischio aggiuntivo per i tumori cerebrali è documentato dopo esposizioni per anni superiori a 10 a radiofrequenze emesse da telefoni portatili e cellulari sentenze alla corte e poi ci sono i verdetti accolti in primo grado ma rigettati in appello diciamo le non verità giudiziarie ma per questo non di certo non verità nella realtà della vita dei danneggiati 2019 il tribunale di Monza condanna l'INAIR a risarcimento ad un addetto di Linate Malpensa per la malattia professionale con inabilità permanente misura 38% per neurinoma del nervo acustico da irradiazioni di radiofrequenze emesse anche da telefoni cordless e cellulare 2017 il tribunale di differenze sezione e lavoro condanna l'INAIR all'indennizzo e rendita per inabilità permanente in favore di Alessandro Maurri malattia professionale nella misura del 16% per un neurinoma ipsilaterale del nervo acustico dopo aver prestato attività lavorativa presso varie imprese svolgendo mansioni che comportavano il prolungato uso di telefoni cellulari sempre nel 2017 la sezione lavoro della procura della repubblica presso il tribunale di Palermo sentenzia poi in favore della vedova di un agente della polizia di stato deceduto vittima del dovere cioè morto per causa di servizio nello svolgimento di attività di intelligence a contatto giorno e notte con i propri uomini con apparecchiature elettroniche di ricezione usando pressoché costantemente il telefono cellulare l'agente muore nel 2010 a 44 anni per glioblastoma tumore maligno alla testa e la lista nera è purtroppo ancora lunga eppure tanto sorvolando sul noto affair radio vaticana e di cui ho scritto nel mio libro manuale di autodifesa per elettrosensibili potrei continuare citando casi internazionali la storia di Jimmy Gonzales 42 anni brillante avvocato della Florida fino al 2011 morto per glioblastoma multiforme è stato il cellulare la sua ultima denuncia oppure l'epilogo di Robert Kane americano ingegnere Motorola per 30 anni autore del libro testamento telefoni cellulari la roulette russa morto oppure lui per un tumore maligno in testa e ancora Justice James Greto 15 anni nel 2017 morto per un tumore al cervello colpa del wifi secondo i genitori per non dimenticare l'ultimo rapporto dell'agenzia di sanità pubblica francese santé publique france rispetto al 2018 c'è stata un'impennata di ben 4 volte del glioblastoma e pensare che dal senato della repubblica prima che nel governo Meloni diventasse sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri con delega all'innovazione nella scorsa legislatura Alessio Butti ha avuto il coraggio di dire la scienza lo ha spiegato nel dettaglio i rischi sanitari ambientali sono del tutto immaginari e del tutto ipotetici siccome no complottista e negazionista per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G salute e ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci Qual quantitat Hispare hispare dirigic volume base vas під gli di oppure kille прим ��� rigid d Grazie.